Si intitola The Beatles Get Back ed è una docu-serie, una serie documentario in sole tre puntate del grande regista Peter Jackson. Peter Jackson vi ricordo che è quel regista che ha diretto la saga di Il Signore degli Anelli, The Lord of the Rings, tradotto in inglese nel titolo originale. E non ci sono soltanto Hobbit, non ci sono solo personaggi, chiamiamoli, fantastici nella sua memorabile cinematografia, no? C'è anche The Beatles Get Back su Disney Plus dal 25 novembre 2021 tra due giorni di tempo e per questa ghiotta occasione McCartney Stella ha voluto creare del capsule collection dedicata proprio ai Fab Four, non soltanto al pool, al buon pool. La band di Liverpool ha, diciamo così, accompagnato al premio Oscar neozelandese tutta la pandemia in quel periodo in cui non siamo potuti uscire da casa, no? Ed ecco che lo stesso Peter Jackson realizza un prodotto, chiamiamolo, innovativo, un prodotto reale, autentico, non un prodotto scontato, non un prodotto di nicchia, ma un prodotto che probabilmente sa di piacersi, sa di avere grandi, grandi soddisfazioni da elargire. Bene, il regista dunque attraverso questa opera veramente sublime, epica, straordinaria, riesce a fare veramente grandi cose e riesce a mettere, a buttare tra un sollasso ed un altro quella che è la sua passione principale, quella di gestire, quella di dirigere film, pellicole, lungometraggi, cortometraggi, docu-serie, documentari, serie tv e chi più ne ha più ne metta, un prodotto bello, simpatico, piacevole e straordinariamente benvenuto come questo di cui pochi ansi vi ho parlato. Aspettiamo tutti il 25 novembre 2021, fra due giorni su Disney Plus potremo godere The Big Toast Get Back. Il video termina qua, iscrivetevi al mio canale narrato italiano commentato e complimenti a Peter Jackson.